Di Teach for Italy questa mattina abbiamo portato il racconto della nostra esperienza sia della nostra esperienza personale che abbiamo fatto appunto crescendo e poi ci ha portato a questa esperienza di volontariato che ci ha permesso poi di sviluppare, di continuare a sviluppare competenze, a conoscerci meglio, a capire chi siamo e che cosa vogliamo diventare e essere. La ragione per cui siamo qua era anche proprio quella di coinvolgere i ragazzi e le ragazze che stanno crescendo in questo tipo di processo, cercando davvero di convincerli che ascoltare queste scintille e mettersi anche nelle condizioni in cui queste scintille possono nascere, quindi con esperienze di volontariato in cui incontrano altre persone, fanno esperienze che li portano anche a quelli che loro pensano essere i loro limiti, può veramente arricchirli. Quindi sì, noi abbiamo provato a portare questo tipo di racconto e di esperienza. Come sempre, come quando siamo a scuola a insegnare, noi pensiamo sempre di dare qualcosa ai ragazzi, ma invece sono loro che danno qualcosa a noi, perché siamo venuti qui col pensiero di portare la nostra esperienza, invece mi porto a casa tantissima energia, tantissima comprensione, guardare i loro sguardi e danno davvero interessati e mi fa sperare e mi fa pensare che saranno insieme a noi parte del cambiamento.